Bene, salve a tutti, siamo felicissimi di avervi qui stamattina a Stem Buildings. Questo è un laboratorio, un laboratorio dal basso, che si è potuto attivare grazie al contributo della Regione Puglia e alla collaborazione del Politecnico nella fattispecie del professor Selicato che è qui oggi con noi. Di che cosa parleremo questi due giorni? In questi due giorni parleremo dei temi del riuso del paesaggio abbandonato, sottotutilizzato o dismesso. E' un tema abbastanza importante in quanto soltanto nella provincia di Bari, per esempio nell'area metropolitana, noi contiamo bel 11% del nostro territorio che è completamente antropizzato ma che ad oggi è completamente inutilizzato, è abbandonato ed è dismesso. Oppure nella sola città di Bari contiamo ben 200 edifici che noi abbiamo mappato che sono completamente inutilizzati. Quindi il problema è abbastanza rilevante. Stem Buildings nasce proprio all'interno di un programma di ricerca che il mio gruppo, Small, sta portando avanti da qualche anno. E di qua, da questo programma di ricerca, prende il nome il laboratorio. Il laboratorio, in buona sostanza, ha questo nome che deriva sostanzialmente dal tema legato al concetto di stand-by. Ovvero tutti questi pezzi del nostro paesaggio urbano o extraurbano sono elementi che sono in attesa, sono momentaneamente spenti e nonostante stiano spenti, come ben sapete in stand-by, esiste un consumo di risorse territoriali molto forte che questi edifici comportano. E di conseguenza abbiamo pensato di unire il tema, come dire, nel nome, questo tema dello stand-by con il tema dell'architettura, quindi dell'edificato. In particolare, avvicinandoci a questo tema da un po' di anni, ci siamo accorti che a partire dalla grande stagione di riqualificazione urbana e territoriale della dismissione che si è avuta negli anni 90, con questi grandissimi interventi all'interno delle città che portavano a trasformare grandissime aree attraverso interventi di macroscala, col passare del tempo, con anche l'insinuarsi della crisi negli anni 2000, questa forza, questo principio di intervento per macro aree all'interno delle città si è andato molto affievolendo e quindi si è favorita una riflessione differente. Una riflessione differente che è emersa assieme all'emergere di una galassia di gruppi che in tutta Italia hanno iniziato ad interessarsi di questo tema. Nel momento in cui io con il mio gruppo ho tentato di inquadrare il problema, mi sono accorto che in tutto il territorio nazionale, non soltanto, esistevano questi gruppi che si avvicinavano al tema del riuso del paesaggio abbandonato attraverso anche ottiche veramente differenti o variate, perché non tutti i gruppi presenti qui oggi sono formati unicamente per esempio da architetti, ma hanno una formazione abbastanza erogenea e si avvicinano al problema anche attraverso azioni sul paesaggio che hanno una postura differente, quindi anche attraverso le arti visive ad esempio o attraverso lo sfruttamento delle reti sociali. Per cui quello che abbiamo fatto è, oltre a produrre delle azioni concrete sul territorio, abbiamo iniziato, questo per un convegno che c'è stato a marzo organizzato sempre dalla regione Puglia, abbiamo iniziato a capire quali fossero le strategie che tutti i gruppi che grossomodo si sono avvicinati a questo tema hanno impiegato. Naturalmente è prematuro parlarne adesso perché sarebbe più utile anche per rubare pochissimo tempo che ascoltiate prima tutte le relazioni dei gruppi e poi magari martedì in coda riusciamo a fare un piccolo momento di critics in cui tentiamo di fare anche una sintesi che guardi un po' più nel dettaglio a questo metodologio di approccio. Un'altra cosa importante per esempio che non si toccherà nel laboratorio ma che mi premeva segnalare è proprio la natura di questi nuovi gruppi che si sta formando, ovvero esiste anche una maniera diversa a nostro avviso e questa è una posizione anche condivisa con molti dei presenti qui oggi che ci si avvicini a costruire una propria professione, un proprio mestiere o comunque anche semplicemente una strategia di ricerca in maniera che stanno cambiando rispetto al passato, non soltanto per l'avvento della rete ma anche per la trasformazione stessa di come si costruisce adesso uno studio o un gruppo di ricerca o un collettivo che quindi si sta trasformando lentamente queste attività di fusione a volte fredda, di collaborazioni, di alleanze che spesso si intessano in una scala molto grande del territorio, quindi ci si trova a lavorare spesso con persone che sono a migliaia di chilometri di distanza e quindi questo approccio anche a come si fa l'architetto, l'urbanista, il passaggista si sta modificando e questi gruppi in parte a nostro avviso rappresentano anche un po' il termometro di questo cambiamento di come anche la professione stessa o la professione di chi si occupa dell'architettura si sta trasformando per cui vi inviterei anche in maniera trasversale a leggere anche in che maniera i gruppi non soltanto attaccano il problema dal punto di vista metodologico ma anche come metodologicamente questi gruppi operano e si assettano e quali configurazioni assumono per fare quello che fanno e questa è una cosa molto interessante ed è una cosa che anche insieme a molti di loro che sono qua stiamo iniziando a leggere abbastanza in maniera ancora prematura ma stiamo tentando di farci un'idea il laboratorio si compone in questa maniera, abbiamo gli interventi dei nostri ospiti la mattina e quindi ciascuno di loro vi presenterà il proprio progetto e vi farà capire quali sono le strategie che spesso gli strumenti, più nel dettaglio, gli strumenti che impiegano per i loro interventi nel primo pomeriggio avremo invece un focus sulla Puglia perché serve anche un po' capire per ascoltare e ascoltarsi, capire insomma quali sono le strategie condivise all'interno dei gruppi e capire in che maniera anche in alcuni territori si sta oggi ponendo il problema del riuso la Puglia in questo caso anche con un pizzico di orgoglio possiamo dire che ha costituito negli ultimi anni un territorio, ha costituito un caso molto vivo nel territorio nazionale e quindi avremo delle persone che ci racconteranno un po' di esperienze sia di ricerca che di interventi diretti, che di politiche relative ai temi del riuso e infine oggi ma come vedete anche domani ci sarà una sessione in cui proveremo insieme ai nostri amici che sono stati così gentili da accogliere il nostro invito e insieme a voi se volete proveremo a costruire un documento comune o un documento collettivo per capire in che maniera anche a livello normativo o a livello di strumenti, di strategie è possibile rispondere ai temi del riuso cioè se è possibile spingere anche chi ci comanda dall'alto nel territorio nazionale a rendersi realmente conto di quanto importante sia questo fenomeno dell'abbandono e di quanto sia importante mettere mano al tema del riuso faremo una sessione di workshop che partirà nel tardo pomeriggio di oggi in coda alle relazioni dei pugliesi e ci sarà anche questo momento domani pomeriggio a partire dalle tre circa mentre domani mattina c'è l'altra metà delle relazioni dei nostri ospiti io come dire questa è l'altra parte del programma che in dettaglio è il programma di oggi e nell'augurarvi insomma una buona frizione del laboratorio passerei la parola al professore Silicato grazie perfetto allora grazie io mi fermo qua non vado sul io farò qualche considerazione con il più di carattere generale per inquadrare un po' le questioni di cui discuterete in questi due giorni tra l'altro ritengo molto interessanti proprio i casi studio perché attraverso i casi studi si può anche tentare una generalizzazione faccio queste considerazioni senza conoscere appieno se non per averne parlato con Alessandro diciamo dei temi che sono stati trattati nei casi studio però credo che in buona sostanza di riuscire a cogliere gli aspetti più di carattere generale allora alcune questioni il tema del rinnovo urbano è un tema rinnovo urbano rigenerazione un tema ormai corrente ricorrente nelle politiche potremmo dire di tutte le nostre città in Europa nel nostro paese a maggior ragione per quello che ha anticipato anche Alessandro nelle esperienze della regione Puglia negli ultimi nell'ultimo decennio ma il tema del rinnovo urbano forse insomma dovrebbe riportarci ad una lettura storica quando insomma se ne è cominciato a parlare insomma perché poi oggi si usa ricorrentemente il termine rigenerazione a volte si dimentica quali sono le origini bene se ne comincia a parlare in epoca post-industriale avvalle un po' delle delle politiche di industrializzazione che ovviamente fanno riferimento alla Gran Bretagna come il paese esemplare per le politiche industriali messe in atto fine 700-800 e quindi con la possibilità di reperire nuove aree per l'edificazione a costi più accessibili rispetto alle aree urbane centrali che vanno via via in declino a questo punto si pone il problema di come intervenire per recuperare il patrimonio edilizio esistente le prime esperienze nascono in Gran Bretagna e poi via via questa questione del recupero del patrimonio edilizio dismesso sia esso abitativo sia esso produttivo si estendono anche nel nostro paese ma sempre in Gran Bretagna cito le esperienze di Richard Rogers degli anni 80-90 del secolo scorso e poi ancora le politiche del recupero delle aree dismesse sempre negli anni 70 in concomitanza con la crisi del settore industriale per arrivare in brevissima sintesi perché si potrebbe discutere tantissimo su questo ma voglio cogliere una serie di elementi significativi che fanno da cornice un po' per le attività di questo workshop per arrivare come dire ad una tentativo anche di legiferare in materia nel nostro paese che è collocato ai primissimi anni 90 con un paio di leggi ordinarie dello Stato 92-93 poi insomma vi lascerò anche i riferimenti normativi in cui vengono emanate queste due leggi ordinarie che sono quelle sui programmi integrati di recupero che sono il preludio per tutta la stagione dei programmi complessi che dalla metà degli anni 90 fino a tutt'oggi nel nostro paese ma anche in Europa sono stati ampiamente praticati più recentemente con una specifica attenzione proprio al recupero delle aree dismesse di tipo produttivo ci sono alcune leggi regionali che meritano una qualche attenzione cito la regione Lombardia che richiama il recupero come una necessità diciamo connotata da interesse pubblico qualora essa si misura con il recupero delle aree dismesse che sono un pericolo per la salute e quindi intervenire su queste aree dismesse significa farsi carico proprio di una necessità che è nella direzione dell'interesse pubblico qualcosa di analogo fa la regione Piemonte la regione Puglia in realtà non non mira nello specifico a connotare gli interventi di recupero così marcatamente diciamo orientati al settore produttivo perché le accomuna ad una molteplicità di azioni insomma che riguardano l'intero patrimonio edilizio esistente allora sempre in breve sintesi questo patrimonio edilizio come diceva prima Alessandro in stand by in attesa allora io porrei una serie di domande che possono essere anche utili per capire poi cosa fare intanto quali sono le ragioni per cui il patrimonio edilizio poi è stato abbandonato ed è un patrimonio edilizio con il quale oggi noi diciamo dobbiamo misurarci per reinserirlo nel ciclo produttivo delle nostre città nel ciclo vitale delle nostre città allora direi che se volessimo sintetizzare le ragioni essenziali per cui questo patrimonio edilizio è andato via via in disuso potremmo dire che sono venute meno quelle funzioni che ne avevano caratterizzato ne avevano dato avevano giustificato l'edificazione cioè la scarsa competitività delle funzioni certo questa è una in alcuni altri casi potremmo parlare anche di necessità di radicali mutamenti del patrimonio edilizio esistenti per adeguarlo alle funzioni stesse lo sviluppo di nuove funzioni sostitutive di quelle originarie che in qualche maniera a questo punto rendono diciamo non più utilizzabile il patrimonio edilizio esistente la mancanza di risorse finanziarie le diverse condizioni di contesto e per contesto faccio riferimento al contesto sociale, economico, fisico, geografico, istituzionale quindi nella sua diciamo variegata configurazione e non da ultimo le diverse politiche di sviluppo che in qualche maniera sono state coltivate un esempio fra tutti in Italia negli anni 70 il boom edilizio a scapito invece delle attenzioni che dovevano essere riposte invece sul patrimonio edilizio esistente allora se queste sono in brevissima sintesi le ragioni per cui il patrimonio edilizio esistente via via è andato in disuso io porrei adesso una serie di domande e meglio una serie di questioni circa i fattori su cui oggi bisogna puntare per recuperare questo patrimonio per reinserirlo nel ciclo vitale delle nostre città e tra l'altro che intravedevo leggevo un po' nello scorrere di qualche presentazione alcune di queste questioni che io ho provato a mettere assieme proprio per delineare come dire il quadro generale entro cui collocare le riflessioni che seguiranno oggi e domani premesso che è fondamentale il ruolo del progetto il progetto come diciamo luogo creativo di elaborazione di idee per garantire il riuso del patrimonio edilizio adeguato a nuove funzioni occorre intanto chiedersi se quello che si sta proponendo è un investimento che ha una sua remuneratività da un punto di vista economico e non soltanto diciamo nella sua fase diciamo iniziale ma anche mi porrei il problema della gestione che è un altro problema non da poco occorre ancora chiedersi se quello che stiamo proponendo è capace di attrarre anche nuove risorse finanziarie oltre che interesse risorse umane è necessario coinvolgere diversi soggetti che a vario titolo hanno un ruolo fondamentale possono avere un ruolo fondamentale a cominciare dalla proprietà ma poi devo dire che non da meno è il ruolo dell'ente pubblico ente pubblico in quanto volontà politico istituzionale che primariamente deve promuovere e incentivare il riuso dell'esistente cioè l'ente pubblico ha per dovere questo compito e devo dire che quando si intervine sulla proprietà privata ancora più è difficile capire in che modo poi insomma l'ente pubblico al di là del ruolo guida che può avere può essere direttamente coinvolto vanno ricercate probabilmente nuove forme di partenariato pubblico privato in questi giorni io ho l'avventura di lavorare ad un bando di concorso che il comune di Ugento in particolare ha bandito nel proprio territorio Ugento lo dico a chi viene da altre regioni è un comune sullo Ionio nella provincia di Lecce il comune di Ugento ha bandito un concorso per il recupero di un edificio privato con fondi pubblichi ovviamente questo è stato possibile attraverso una convenzione con il privato che garantisce al comune di destinare per un certo numero di anni credo una ventina d'anni adesso non ricordo per bene l'uso dell'edificio per finalità pubbliche quindi è una delle opportunità che si presenta tra l'altro ripeto progetto finanziato con fondi europei allora quindi nuove forme di partenariato pubblico privato per fare in modo che l'ente pubblico non abbia solo il ruolo guida del processo di recupero ma sia direttamente interessato proprio agli esiti e alla gestione proprio delle attività di recupero ancora è necessario anche interrogarsi su quelli che sono i caratteri fisici del patrimonio edilizio su cui intervenire per dimensione consistenza per quello che è lo stato d'uso sappiamo benissimo che uno stato d'uso eccessivamente degradato pone diciamo certamente una serie di problemi in più in quanto quantomeno a costi di intervento così come altrettanto importante è interrogarsi sul livello di trasformabilità dell'edificio per le funzioni che stiamo progettando e poi ci sono le condizioni di contesto che io ritengo ovviamente anche per deformazione professionale visto che mi occupo proprio di pianificazione di progettazione urbanistica fondamentale cioè ignorare qual è il contesto in cui l'edificio si inserisce l'immobile oppure i luoghi del recupero si inserisce è un errore che non può essere assolutamente commesso quindi la posizione rispetto all'intero ambito urbano perché no anche territoriale in qualche caso la dimensione e la consistenza dell'ambito di riferimento l'attrattività delle aree e verificare se ci sono condizioni favorevoli al contorno da dare una qualche garanzia sul successo dell'operazione per esempio questo riporta in primo piano il tema dell'accessibilità delle infrastrutture ancora le politiche di sviluppo cioè è importante capire prima facevo riferimento al ruolo guida dell'ente pubblico ma il ruolo guida dell'ente pubblico non può essere considerato a sé prescindendo da quelle che sono i programmi le politiche territoriali urbane che un'amministrazione si è data o che sta cercando di darsi e poi ci sono in maniera un po' più diciamo lungimirante strategie che vanno un po' coltivate perché poi l'intervento puntuale l'intervento su luoghi specifici possa avere successo e non stiamo scoprendo nulla di nuovo insomma ricordo un paio di casi emblematici di strategie addirittura territoriali insomma credo che per formazione tutti quanti voi ricordiate quanto significative siano state per esempio le strategie territoriali messe in atto nel distretto della Rur nel nord della Germania quando a fronte di città industriali in declino l'idea di successo prioritariamente agli interventi diciamo di recupero delle singole realtà industriali l'idea di successo fu quella di costruire di realizzare un parco territoriale che tenessi assieme le 17 città che erano andate in declino furono fatte una serie di operazioni progettuali puntuali ma tutte legate a quella idea unitaria che le teneva assieme cioè tutte tassello di una rete ecologica che dava nuova funzione nuova vitalità a quello che era il parco del distretto industriale originariamente quindi la strategia è in questo caso una strategia territoriale ma ne cito un'altra altrettanto importante la baia di Boston ormai andata in declino negli anni 80 è diventata a tutti gli effetti lo scarico delle acque di Fogna con un declino che in qualche maniera aveva interessato l'intera città i fronti a mare che avevano visto ridursi il la voce il timbro di voce ridursi il valore immobiliare degli edifici che si affacciavano sul mare e quindi con la trasformazione diciamo di quei luoghi come arterie stradali le zone costiere che tra l'altro erano da un punto di vista diciamo paesaggistico significativamente rilevanti che sono in disuso in degrado e via dicendo la strategia quale fu in quella circostanza ancora una volta quella di realizzare una rete fognaria che meglio una rete di smaltimento dei reflui che consentisse prima ancora che questi insomma si versassero in acqua di depurarli quindi una banalità potremmo dire però una strategia che ha prodotto grandissimi risultati andate un po' a vedere oggi che cos'è la baia di Boston cioè è tutta altra cosa rispetto a quella che era non più tardi di vent'anni fa allora le strategie territoriali strategie urbane che richiamano come dicevo prima l'importanza del contesto in tutte le operazioni in cui si agisce anche su singoli luoghi però con una lungimiranza rispetto a quello che è l'ambito più ampio di intervento altri temi insomma così che cerco di toccare in maniera molto 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 rapida altri dopo di me credo nel pomeriggio parleranno dell'esperienza pugliese l'esperienza pugliese io la voglio citare non per ragioni di campanilismo me ne guarderei bene ma perché la Puglia nel bene e nel male insomma certamente in questi ultimi dieci anni ha fatto da battistrada in Italia per politiche innovative nell'ambito della pianificazione della rigenerazione della pianificazione paesaggistica allora devo dire anche con una coerenza fra i diversi diciamo adempimenti normative gli stessi strumenti che sono stati messi diciamo in atto in questi ultimi anni che è davvero estrema potremmo dire dal documento regionale che definisce i criteri fondamentali cui attenersi nella redazione dei piani urbanistici comunali in cui per esempio l'attenzione al riuso al recupero al consumo di suolo è fondamentale almeno quanto ma direi forse più l'attenzione che va riservata alle aree della nuova trasformazione fino al recentissimo piano paesaggistico territoriale regionale che è il primo adottato in attesa di approvazione in Italia e redatto ai sensi del codice urbani del decreto 42 del 2004 in cui si sperimenta come dire un modo nuovo di pianificare certo pone a posto una serie di problemi credo che soprattutto chi vive nella realtà regionale maleco mi dicevano l'altro giorno a Salerno in occasione del congresso del Lino insomma si è riverberato anche in altre regioni a posto una serie di problemi insomma il clima bollente con cui è stato accolto e anche indice come dire della necessità di modificare la cultura del progetto della pianificazione perché in un contesto ma questo accadrà quasi ovunque credo in cui insomma le forme piano sono quelle tradizionali per quanto innovate dal nuovo modello di pianificazione vigente in quasi tutte le regioni ma ancora in gran parte ancorate come dire all'idea della trasformazione insediativa delle aree della nuova trasformazione insediativa quindi un ripensamento direi insomma notevole sulla necessità di agire sull'esistente di agire sull'esistente che è l'idea forte del piano paesaggistico come dire ha un po' spiazzato tutti quanti i comuni però la strada è stata tracciata allora il nuovo piano paesaggistico credo che sia in assoluto in Puglia il quadro di riferimento che mette in chiare lettere cubitali l'importanza del paesaggio del recupero dell'esistente del riuso del patrimonio di Lizio di Smesso quindi di una politica di sviluppo che è tutta quanta orientata alla valorizzazione dell'esistente piuttosto che alla trasformazione del nuovo è una sfida da vincere e che ovviamente rappresenta il necessario punto di riferimento per chiunque si occupi poi anche di interventi finanche puntuali di recupero di singole realtà edilizie e questa coerenza del quadro normativo è riconoscibile anche in alcune leggi che non prime in assoluto ma certamente hanno inteso focalizzare l'attenzione sul recupero sulla qualità dell'architettura degli interventi sul patrimonio di Lizio esistente cito soprattutto a chi non è della regione Puglia il 2008 come anno diciamo di svolta in Puglia in cui vengono promulgate tre leggi una norme per l'abitare sostenibile giugno del 2008 un'altra sempre giugno del 2008 una a seguire l'altra misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio luglio 2008 praticamente il mese successivo norme per la rigenerazione urbana quindi questo fa capire quanto la regione abbia investito insomma in una svolta che io direi prima ancora che normativa soprattutto di tipo culturale perché queste norme questi strumenti questi piani non sono maturati diciamo indipendentemente da un'azione di affiancamento che la regione ha provato a come dire garantire in questi anni affiancamento alle comunità locali affiancamento alle istituzioni locali quindi proprio per fare in modo che queste norme questi piani fossero la naturale conseguenza di tutto quel lavoro che è stato fatto prima ancora che piani e leggi fossero promulgate allora in conclusione perché non voglio rubare tempo anche poi alle esperienze che secondo me saranno particolarmente significative per le quali mi scuso non potrò essere presente per quanto molto incuriosito il ruolo guida dell'ente pubblico è fondamentale non può essere disconosciuto così come nell'ottica di un'amministrazione è necessario che le esperienze del passato siano il punto di partenza per quello che si tenta di costruire per il futuro costruire come processi e come progettualità spesso queste esperienze in passato sono state episodiche casuali saltuari invece è necessario che il riuso il recupero la rigenerazione sia permanentemente presente nell'agenda politica delle nostre amministrazioni che sia il compito quotidiano che le amministrazioni debbono giorno per giorno assolvere e poi in tal senso occorre anche che le amministrazioni non ci sono amministratori però sarebbe interessante interloquire anche con loro non credo che fra gli invitati ci sono soggetti istituzionali se non forse qualcuno della regione costituiscano strutture pubbliche dedicate proprio specificatamente un po' al riuso al recupero negli uffici del piano che in qualche maniera cominciano ad essere più o meno diffusamente presente soprattutto nelle grandi realtà urbani degli uffici dedicati delle sezioni dedicate al riuso sono fondamentali perché si possa monitorare in tempo reale tutto quello che sta accadendo dicevo prima l'importanza del partenariato pubblico privato anche con forme creative nuove che bisogna inventarsi perché è evidente che c'è uno scoglio da superare e che è quello delle risorse finanziarie oggi ancora più che in passato e poi bisogna andare avanti senza farsi delle illusioni perché le rigenerazioni urbane i processi di recupero di riuso per quanto auspicati per quanto presenti anche in comunità mature dove l'idea del recupero sia stata abbondantemente metabolizzata comunque ovunque è necessario che questi processi vengano consapevolmente gestiti perché sono lunghi complessi richiedono risorse finanziarie risorse umane intelligenze sapere integrati prima si diceva che fra di voi non ci sono soltanto architetti ma è evidente che occorre un approccio multidisciplinare perché ci sono diverse competenze in gioco per interventi complessi quali sono quelli del riuso del recupero con la consapevolezza che ci sono anche modalità diverse secondo cui si può precedere perché ci possono essere interventi esemplificativi che vengono presi a modo di riferimento perché poi fungano da guida per interventi futuri visioni di dettaglio ma anche visioni di insieme organizzazioni e strumentazioni specifiche che sono necessarie tutte al fine di rendere coerenti le soluzioni con quelle che sono le esigenze delle comunità locali chiudo con un richiamo che è fondamentale le comunità locali che debbono avere un ruolo altrettanto importante quanto quello del ruolo guida cui ho fatto riferimento con specifica attenzione alle istituzioni le comunità locali perché sono poi di fatto coloro che gestiranno nel tempo questo patrimonio quindi coinvolgerle da subito nella costruzione dell'idea progettuale prima ancora del progetto è fondamentale così come altrettanto fondamentale e necessario è coinvolgerle nell'intero processo costruttivo perché soltanto in questa maniera poi si creano le premesse per una coerente gestione anche del patrimonio la sfida è tutta da vincere perché un conto è parlarne un po' il futuro un conto è parlare sugli esiti prodotti io mi auguro che si possa anche parlare con considerazioni di successo su operazioni che si sono svolte in passato e che possano come dicevo prima essere anche una sorta di riferimento per le nuove esperienze progettuali chiudo qua e vi auguro buon lavoro per l'intera giornata di oggi e per quella di domani grazie a tutti